Nell'ambito del piano regionale della prevenzione 2021-2025, la ASL di Pescara aderisce alla giornata internazionale per diffondere la cultura della prevenzione alle future mamme e far conoscere i danni provocati dall'alcol consumato in gravidanza. Per questo è stato allestito un punto informativo nell'ingresso visitatori all'ospedale di Pescara, dove il personale dei consultori di zona e del dipartimento materno infantile forniscono tutte le informazioni rispetto alla sindrome fetoalcolica. In questa giornata, il 9 settembre, ricorre appunto la giornata di prevenzione della sindrome fetoalcolica e quindi è fondamentale richiamare l'attenzione su tutte le problematiche che l'alcol può sviluppare nel feto e durante l'allattamento. Quindi ribadire una cultura di sobrietà nella donna che vuole affrontare una gravidanza comunque in età fertile, quindi anche la modica quantità non è accettabile. L'aspetto più gravoso è la FAS, che è appunto la sindrome dello spettro fetoalcolico. Questo produce oltre danni cognitivi anche danni fisici irreversibili, quindi sono patologie prevenibili semplicemente astenendosi dall'uso di alcol. Quindi l'incidenza, soprattutto con l'aumento dell'uso di alcol nelle popolazioni giovanili, vediamo negli ultimi anni che si sta incrementando. E' importante quindi che tutti i servizi, i SERD, il Dipartimento Materno-Infantile, i consultori che sono qui oggi presenti, uniscano le forze in questa direzione per sensibilizzare e per creare una cultura che prevenga questo disturbo prevedibile.